Dimostrerò con i fatti che hanno fatto bene a darmi la fiducia, dice alla fine la Ministra, non sono dimezzata né indebolita, farò quello che devo, senza cedimenti. Anna Maria Cancellieri ha appena incassato l'appoggio della Camera che ha respinto la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle. 405 i no, PD, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Scelta Civica. 154 i sì alle dimissioni da Grillini, Selle, Fratelli d'Italia, Lega. Forte e decisa l'autodifesa della Guarda Sigilli, accanto a lei tutto il governo, letta in testa. Hanno toccato il mio onore, dice la mia famiglia. Non vi è stato dunque nessun inconsueto zelo, né un'anomala tempestività, meno che mai generata da un mio intervento, come adombrato da qualcuno. Il caso Ligresti non è il simbolo di una giustizia di classe, replica la Ministra parlando di visioni preconcette e colpevolismi ad ogni costo contro di lei. Ripercorre la vicenda, come fece 15 giorni fa. Giulia Ligresti non fu messa ai domiciliari per il mio intervento. Ne ho mai mentito, come hanno confermato i giudici di Torino. Mi rammarico per aver mescolato nella telefonata la compagna di Salvatore Ligresti. Partecipazione umana è un doveroso distacco, ma di fronte alle nuove accuse di aver mentito su una terza telefonata ad Antonino Ligresti, zio di Giulio, il 21 agosto. La cancellieri si ribella. Ho detto ai giudici di aver risposto al suo SMS, ozioso di scettare sul termine risposta, visto che i magistrati stessi non mi chiesero ulteriori spiegazioni. Non ho mentito dunque al Parlamento, né ai magistrati su alcun elemento di fatto che poteva essere utile a chiarire ogni aspetto della vicenda. Non ho mentito neppure sulla mia amicizia con uno dei membri della famiglia Ligresti. L'aula è fredda, scarni gli applausi. Cicchito per il nuovo centrodestra parla di un caso cristallino, mette in guardia dal rischio di un Parlamento ghigliottina. Durissimo Brunetta di Forza Italia, non con il Ministro, ma con il Partito Democratico. Questo voto è fasullo, è una fiducia di Pirro. Avete fatto di quest'aula la sala giochi dei Renziani. Qui si celebra un rito macabro, il cui protagonista e il cui significato è tutto interno alla lotta di Renzi per impossessarsi non solo del posto di segretario del Partito Democratico, ma per demolire il suo avversario e finto compagno Enrico Letta. Attacca a tutto campo il Movimento 5 Stelle irridendo al disagio del Partito Democratico. Votate come faremo noi la sfiducia al Ministro Cancellieri, altrimenti semplicemente vergognatevi. Vergognatevi!